Siamo con Giovanni Pascinisconti alla partenza della quarta tappa, bene Giovanni, ci siamo trovati con un bel caldo adesso, si sta meglio? Sì, non ci possiamo lamentare, è meglio avere questo caldo che credo della Danimarca, oggi si riparte dall'Italia, stiamo bene per quanto ci riguarda, oggi dobbiamo cercare di limitare i danni, abbiamo Inchausten, Vardiglia e anche Bruce Link potrebbero fare una buona classifica, quindi speriamo di difenderci bene. Tu non ci pensi neanche un po' alla classifica? No, io devo riuscire a vincere una tappa e so che non è facile, quindi vedremo. Va bene, per quanto riguarda il giorno di riposo o cosa hai fatto? Nel giorno di riposo l'unica cosa particolare che ho fatto è aver tagliato i capelli a mio compagno amatore, quindi vado a riprendere o poi mi dai un voto. Va bene, grazie Giovanni, ci vediamo domani.